buongiorno 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 ogni 10 caffè una maglietta omaggio bellissima la maglietta è quella del Paris Saint Germain va lì vabbè ok fammi 10 caffè va dai che cazzo me lo faccio dai 10 caffè dai fammi 10 caffè chi dici ce la faccio prendere una maglietta sicuro ce la faccio dai ogni 10 caffè una maglietta omaggio sicuro senza zucchero però eh ci sono due mi tremo la mano un po' d'acqua senza acqua va bene solo i caffè tre quanto sono cinque vabbè 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 sei uno due tre quattro cinque e mai Hybrid sono gli ultimi c5 caffè vai sei che vai preparala ripoparla ti gre рыpit报 7 hai mi ultimi 3 mi ha mai vai 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 ultimi due ultima e poi la maglietta è mia ultima la maglietta è mia la maglietta è mia